Vi facciamo conoscere Fabio Girometta che è il titolare dell'azienda agricola biologica Fabio che riprende anche il suo nome appunto questa azienda che produce, che coltiva pomodori che poi verranno conferiti in industria per la trasformazione. Fabio qui ci hai portato in uno dei campi della tua proprietà, ci troviamo nella campagna piacentina il pomodoro che è un prodotto tipico di questa zona. Sì, il pomodoro diciamo che è un po' l'emblema della provincia di Piacenza, è una delle prime coltivazioni che ci sono nella nostra provincia. Tu da quanto sei un agricoltore? Penso da quanto sono nato, nel senso sì, dopo gli studi ho continuato nell'attività dei genitori. Però biologico è solo un anno che ti sei lanciato in questo settore? Biologico da quest'anno, abbiamo deciso per vari motivi, in primis sul fatto che ultimamente c'è molta sensibilità al consumo di biologico da parte dei consumatori e quindi è aumentata per la legge della domanda dell'offerta, c'è più richiesta di coltivazioni biologiche, di prodotto biologico, al che abbiamo deciso di provare un po' di coltivazione, fare una piccola parte di biologico. È stata così una prova e vedere come funzionava, cosa succedeva, un po' come prodotto innovativo e devo dire che siamo stati, sono stato parecchio contento di questa cultura, sono stato parecchio contento perché in primis è stato un po' un ritorno a quello che ci avevano insegnato i nostri nonni, a produrre e a coltivare senza l'utilizzo di prodotti chimici, di prodotti che vanno ad alterare quella che è la natura della pianta, la natura della coltivazione. Non è stato facile perché comunque c'è il problema degli infestanti, il problema delle malattie, il problema degli agenti esterni e comunque utilizzando l'insegnamento dei nostri nonni, cioè con le rotazioni, rispettando i tempi della pianta e i tempi della natura soprattutto, non è per niente impossibile perché in effetti in passato è così che coltivavano, coltivavano senza l'utilizzo di agenti esterni e il prodotto si riusciva a farlo. Poi l'evoluzione, il progresso ci ha portato a fare le culture in un determinato modo.